Buongiorno a tutti, nel lungo percorso di analisi delle biografie di comandanti del reggio esercito scritte da Francesco Sapereo Grazio le siamo arrivati all'ultima puntata con tre generali impegnati durante la guerra di Libia che non hanno lasciato nell'immaginario collettivo un grande ricordo, nel senso sono tre importanti personaggi, tre generali che hanno dato una certa importanza, un certo piglio, soprattutto Spingardi come ministro della guerra che comunque sono tutte e tre molto rilevanti soprattutto per un percorso di lungo periodo nell'analisi degli altri quadri delle forze armate nel periodo liberale almeno appunto fino alla prima guerra mondiale, poi sappiamo come la prima guerra mondiale ha sconvolto completamente anche gli organigrammi delle carriere, dei percorsi di crescita professionale sappiamo benissimo di come ufficiali che nel 1915 erano tenenti colonnelli e che nel 1918 erano abbondantemente generati, generali pluri gallonati e a questo punto inizierei subito con i tre, innanzitutto i tre generali sono Tommaso Salsa, Paolo Spingardi e Giulio Tassoni inizierei con Tommaso Salsa che probabilmente è il meno noto dei tre ma non per questo meno importante, alto, asciutto, diritto, spirante, mitata, energia da ogni suo gesto, parco di parole, risoluto e pronto nelle decisioni, tale era Tommaso Salsa, chi scrive lo conobbe nella vecchia Eritrea, reduce appena dalla difficile missione presso il Negus che gli aveva affidato dopo Adua Antonio Baldissera. Baldissera stimava grandemente quel giovane maggiore di stato maggiore del quale intuiva l'eccezionale personalità fino al punto di esserne tacitamente geloso, una delle strane originità del suo carattere. Eppure i due avevano non poche affinità di temperamento, anche Salsa era un condottiero nato, lo dimostrò 16 anni più tardi da generale sul tormentato teatro d'azione della Cirenaica nella guerra libica. Comandante di gran classe di fronte alle più dure situazioni opponeva al destino la limpida e cosciente serenità della sua adamantina volontà. Ne era solo un capo di combattenti, aveva maturato nel suo spirito vasto ed alacre e chiare idee in materia di politica indigena nella lunga esperienza da lui raccolta in Eritrea e poi come capo dell'ufficio politico militare in Tripolitania. Purtroppo un male insidioso aveva cominciato a minare quella fortissima fibra in ancora giovane età. Fu giocoforza a rimpatriarlo ma poi vennero i giorni tristi per la Cirenaica sotto la pressione implacabile degli arabo-turchi e dei ribelli. La situazione si era fatta assai grave a tal punto che si fece manifesta la necessità di ridargli il comando e il ministro delle colonie del tempo fece appello non in vano al suo patriottismo. Chi scrive queste righe lo ricorda quale lo vide uscire dalla stanza di lavoro del ministro dopo il colloquio. Era ridotto l'ombra di se stesso, pallido, emaciato, disfolgorante, non aveva che lo sguardo, l'inconfondibile sguardo del condottiero. aveva accettato comprimendo le sue torture fisiche ed andò e si coprì di gloria, ristabilendo da par suo la situazione. Ma l'albero era inesorabilmente ferito alla radice, ritorno in Italia per morire in età ancora verde. Se fosse vissuto l'Italia avrebbe forse avuto nella prima guerra mondiale il suo miglior generale. Quindi una descrizione molto schietta, molto accorata verso un uomo che, come tanti altri, ma sempre pochi rispetto al novero complessivo, hanno veramente anteposto la propria salute fisica, cioè hanno anteposto i valori più alti della patria a anche le proprie sciagure della salute fisica. Ma passiamo a Paolo Spingardi. Alla Camera, quando era ministro della guerra, lo chiamavano Bocca d'Oro per quella sua oratoria avvincente, favorita da una voce quanto mai armoniosa e simpatica. Era uomo di grande ingegno e con Poglio, capo di stato maggiore dell'esercito, formò un binomio felice al sommo della girarchia militare. Effettivamente il duo Spingardi-Poglio fu probabilmente uno dei momenti più rosei, più efficaci del lungo percorso e reggio esercito. Sappiamo come la Grande Guerra avrebbe, come dicevo, sconvolto sostanzialmente gli equilibri e poi il periodo successivo della crisi istituzionale dello Stato liberale, poi con il fascismo, via via, sarebbe sempre andato più diminuendo la capacità di imprimere delle grandi riforme, delle grandi azioni di rimodellamento della macchina militare di fronte alle realtà che si andavano via via susseguendo. Il suo ingegno stupiva anche i parlamentari, meno propensi a riconoscerlo. Ricordo di aver sentito dire dall'onorevole Giuseppe Bertolini, una delle creature più vicine a Giolitti, questa frase. Spingardi è veramente uomo di grande ingegno e di bella cultura, non si direbbe un generale. Battuta che può fare il paio con quella attribuita come noto a Clamanceau. La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai generali. Comunque fu ai suoi tempi come ministro della guerra che collaborò al risveglio del nostro apparato militare tra il 1908 e il 1911. Ebbe tuttavia non pochi avversari che lo tacciarono di carattere dubbio e di molto opportunismo. È ovvio che come si vanno a toccare gli equilibri di un sistema e soprattutto si ha la competenza e la risultezza nel non fare sconti a nessuno, è ovvio che i nemici nascono come i funghi. E finiamo con Giulio Tassoni. Ecco un caso singolare di comandante indubbiamente dotato di squisite qualità di energia e di capacità e tuttavia troppo spesso insidiato da avversa e fortuna. Forse a questa contrarietà non furono estrane certe durezze eccessive del suo carattere, fiero e robusto ma scontroso e questo lo dice Grazioli che a essere scontroso non era secondo a nessuno, sicché alla stima universale da cui era circondato tolsero il caldo afflato dell'affetto dei subordinati. In certi scatti di ira diventava intrattabile, usava chiudersi in se stesso corrispondendo per iscritto persino col suo capo di stato maggiore su affari di servizio. Cionostante la sua opera di condottiero ebbe spunti vigorosi. Nella guerra libica si distinte allo sbarco di Tolmetta e quella difficilissima di Zuara e più ancora capitanando quel raid rimasto famoso tra Bengasi e Cirene. Ma nel 1915, nominato poi governatore della Tripolitania, si trovò impigliato per colpa non sua nelle tragiche vicende che seguirono il più avvenuto disastroso sgombero del Fezzanne e fu costretto a raccogliersi alla costa. Rientrato in Italia durante la prima guerra mondiale ebbe ad un certo punto il comando della zona Carnia che gli tenne con l'usata energia e con molto valore. Se nonché avvenuto cavoretto e ritrattesi la seconda e terza armata al Piave, la zona Carnia, benché intatta, si trova scoperta e fu giocoforso sgombrarla. E lo sgombero necessariamente avvenne fra indicibili difficoltà alle quali egli fece testa con estrema energia, senza potere però evitare perdite gravi per quanto gloriosi. La ritirata attraverso l'aspra zona montana dell'Alto Piave fu quanto di peggio potesse capitare a un condottiero della sua tempra. Poi ebbe il comando della settima armata sulla fronte occidentale del saliente Trentino, settore inadatto a guerra manovrata. E là lo trovarono le ultime vicende della guerra e di là, nelle gloriose giornate di Vittorio Veneto, concorse da parsù alla fulminia occupazione del Trentino e dell'Alto Adige. E con queste parole, con le quali andiamo a chiudere anche uno tra i più interessanti tra le seconde schiere dei generazioni, cioè quelli che non hanno poi davuto tanta fortuna nella Prima Guerra Mondiale, considerato appunto che sostanzialmente lui iniziò la guerra come comandante d'armata e la finì sempre come comandante d'armata, che fu una cosa che adesso a memoria probabilmente toccò solo al Ducat d'Aosta, tutti gli altri bene o male vennero silurati, vennero in qualche modo rimpiazzati alla bene e meglio, magari poi sbaglio e qualcuno mi correggerà, su questo fatto però grossomodo delle quarte armate iniziali, diciamo, se non vado errato proprio solo il Ducat d'Aosta rimase, che poi in realtà il Ducat d'Aosta entrò qualche giorno dopo, quindi in realtà al 24 maggio del 1915 in realtà non era effettivamente comandante sul campo della terza armata. Comunque detto questo, un'analisi che ci ha portato lungo circa due mesi nella descrizione di queste figure importanti della fisionomia del reggio esercito, abbiamo avuto modo di comprendere come Grazioli sia stato molto severo nei confronti di molti, verso alcuni è stato un po' più tenero, pensiamo a Graziani e questo l'abbiamo spiegato anche per la cerrimodio che Grazioli e anche Graziani aveva per Badoglio, quindi diciamo che il nemico, come abbiamo detto, il nemico del mio nemico e mio amico e quindi in qualche modo Grazioli ha avuto parole abbastanza dolci nei confronti di Rodolfo Graziani, però secondo me era il caso di andarli tutti quanti a leggere così da poter avere uno spaccato più ampio possibile, alcuni di questi generi già erano stati trattati in video appositi su questo canale, ma mi è sembrato interessante andarli a riprendere non fosse altro in comparazione con altri loro colleghi e quindi in qualche modo ne abbiamo avuto una più ampia sfaccettatura, un più ampio ventaglio di giudizi scritti poco dopo i fatti narrati, siamo nell'immediatissimo secondo dopoguerra, sicuramente su quelli precedenti alla prima guerra mondiale erano passati 30-40 anni, però sicuramente abbiamo una descrizione piuttosto a caldo, consente appunto che la maggior parte dei generali oggetti di biografia erano stati conosciuti dallo stesso Grazioli ed erano magari anche stati o suoi sottoposti o suoi superiori. Detto questo, come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!